Scoperti nel 1949 durante il corso di lavori agricoli, il gruppo dei bronzi di cartoceto di Pergola costituisce uno dei rarissimi gruppi di statuaria romana in bronzo dorato. Il gruppo è composto da quattro figure, due donne e due uomini a cavallo, dei quali però si conservano ancora in buono stato solo una figura femminile e una figura maschile. Il gruppo, viste le frammentarie condizioni del rinvenimento, è stato oggetto nel corso dei decenni di impegnative operazioni di restauro. Nel corso degli anni molte sono state le ipotesi su quali siano i personaggi raffigurati. Si è pensato o a personaggi di una famiglia imperiale, oppure, retrodatando la creazione del gruppo agli anni 50-30 a.C., ad una famiglia gentilizia del posto. Rimane incerta anche la collocazione originaria del gruppo scultorio, così come ugualmente misteriosi sono i motivi del nascondimento delle statue. Forse furono interrate per sottrarle ad una razzia o razziate esse stesse. Grazie a tutti!